Questo che lo c'è? Evidentemente, alcuni cussi della sala non possono pensare meglio perché non le organizzazioni dei contatti che sono chiaramente personali e che li invitano al dibattito, però gli ultimi interventi hanno testato qui una serie di bietti, alcuni uomini sono stati rossi, gli altri sono in russo. Ecco, io vorrei dire prima di passare ad altre relazioni, chiaro che adesso ci sono queste cose emesse ora, ci sono tantissime storie, quindi proseguiamo, come? Se si può fare, se il Presidente può fare, l'hai reso conto di quello che stiamo ascoltando, ha fatto una rassegna politico-culturale della situazione di Russia, nell'epoca di Russia, fino ad oggi, e in particolare su varie tendenze, l'accoglio di Massone, rivolta a Borba Giorgio, all'inizio del suo passato, e le forze indietro, le forze del vecchio comunismo, che certo sono sempre alberta, e poi quelle altre forze camicenele, come ha parlato Alexander Kushner, che di sera ha detto questo, hanno costretto Giacomo, il responsabile dell'Eutra di Mosca, di concedere loro una parola, e che quindi hanno detto tutta una serie di cose, attivanti a questo primiorismo, a questo altraismo, cioè come c'è in tutta l'Europa, in tutta l'Europa, di concedere democratica, una revvescenza di tazzismo, di antisemitismo, di forme di nazistime tra Roma e Berlino, di lei europei in Francia, c'è una revvescenza di forze anche fascisti, questa è la tesi di Kushner, non l'informazione di Kushner, di Russia. Dice Giacomo chi preparà, chi preparà, e allora lui dice che ha questa fiducia nel popolo, chiaro che il popolo è una categoria tantomeno astratta, quindi vede in quale forma si esprime il popolo è una categoria tantomeno astratta. per il popolo è una categoria tantomeno astratta. Per il popolo è una categoria tantomeno astratta. e poi più forte ripetutamente la parola, non so se mi sente, di lei, leonite, Raikolovski, il quale voleva parlare di... è la prevedere a Cemento dell'intelligenza e tecnica in Russia. e poi più forte ripetutamente la parola, non so se mi sente, di lei. Ah, ecco, tu c'è la mia versione, vuoi consegnarla? La relazione scritta che aveva lì, vuoi consegnarla? Ecco, ecco, scuro non dimentichi se è utile poi per gli altri, non è un progresso. Ecco, 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 ecco. Ecco, 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 ecco. Ecco, 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 ecco. Grazie a tutti. 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 ... 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 Grazie a tutti. 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 ... 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 ...... ... quando i nostri ammeti russi parlano così rapidamente noi perdiamo metà più della traduzione perché non può seguire allora mi chiede a parlare perché la traduzione non riesce non riescono a seguire un ritmo così veloce ma il Thomas Witt e questo è il traduzione la questione della lingua con forza il risale allora ho pensato ieri pari di agenti giurista politico volevo chiedessi un saluto un saluto un saluto a Sant'Edo Puga al congresso che viene ad ammirato un uomo straordinario che ha scritto nome e un amico che mi trova anche in questo caso anche in questo caso grazie 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 per l'idea di aver fatto proprio all'inigrato questo congresso con un tema così impegnativo e con un sguardo veramente futuro chi mi fa ha amministrato ha immesso per tanti anni una grande città Milano Milano e come ha detto il mio amico caro senatore Fabrizio Ciccitto l'Italia e le grandi città sono in crisi sono in crisi per la mancanza di un nemico non è stata c'era il partito comunista italiano che ha fatto una politica che non siamo qui per giudicare ma comunque siamo qui per colpolizzare e dire che erano a essere benevoli superati ma le crisi delle grandi amministrazioni italiane europee e anche mondiali dipendono dalla mancanza di tensione oggi ho sentito parecchi interventi e ho visto all'interno lo spirito religioso ahimè lo dico per la seconda volta non sono religioso sono un lato credo credo nella democrazia laica credo nella volontà del lavoro credo o dunque lo sia nel quello che noi chiamiamo rifetto tensione volontà coscienza onestà io ho sentito alleggiare una volta una volta i nomi di Marx e il superamento attraverso io e mi ricordo i miei studi ahimèlo in Italia di Emanuele Canna dovere per il dovere disciplina concetti che noi amministratori pubblici dobbiamo portare onestà onestà non è solo quella dei soldi onestà nel saper lavorare onestà nella ricerca della libertà onestà è sempre fare dei bordi e fare il manto di un cielo in questo nostro grande mondo per una ideale che forse è un po' dopo e io da questo riunione questo congresso mando un salve viva la libertà e anche viva lasciatemi unire grazie e beh ci sono vari elementi di inaugurare il dipartito del pomeriggio Segliubini che è direttore del giornale grandissimo giornalista e ora gli orari sono questi noi riprendiamo i lavori verso le diciamo 4-4 eh 4-4 perché i relatori partiranno da qui alle due e mezzo per andare alle due e mezzo o due alle due e mezzo insomma quasi a due e mezzo diciamo il pomeriggio ultimo i pomeriggio i pomeriggio i pomeriggio che intanto gli apparecchi per per il video per i film per l'arte sia possibile sia che sia possibile 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 che 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 qui qui sono che si 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 Grazie a tutti. 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 che... 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 ... che... 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 ... che... che... ... che... 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 ... che... 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 che...